E' stata ritrovata viva venerdì mattina intorno alle 8 la 78enne di Ripa di Seravezza che era scomparsa da giovedì mattina al passo del Cerreto sull'Appennino Tosco Emiliano dispersa mentre stava cercando funghi. Sta bene, è in buono stato di forma e avrebbe rifiutato anche il ricovero in ospedale. Si trovava in villeggiatura Cerreto Laghi con il marito e il figlio. Dalle prime informazioni raccolte dei soccorritori la donna avrebbe trascorso la notte trovando riparo sotto una roccia e si sarebbe alimentata cibandosi di mirtilli trovati in zona. Le ricerche da parte del soccorso alpino, toscano ed emiliano sono andate avanti di giorno e di notte aiutati dai cani addestrati. La signora, residente in Versilia, aveva perso l'orientamento a causa del maltempo, con vento, pioggia e nebbia che si era abbattuto nella mattinata anche sul crinale, ritrovandosi sola e con il cellulare senza segnale. Dopo aver percorso a piedi un lungo tragitto fino in cima agli impianti di risalita ha trascorso la nottata in un anfratto del Vallone dell'Inferno e all'alba è scesa raggiungendo il primo rifugio. Il soccorso alpino raccomanda, in caso di perdita di orientamento, di rimanere assolutamente fermi per evitare di peggiorare la situazione, perdendo ad esempio la copertura telefonica, come nel caso della signora.